proposta e alle colleghe che hanno aderito all'iniziativa, con le quali c'è stato nei mesi scorsi un utile e proficuo dialogo e un ricco scambio di esperienze relativamente ai temi che poi sono confluiti nel panel e ringrazio anche Antonella Salomoni che commenterà e discuterà questo panel. Il taglio espositivo della mia introduzione si atterrà naturalmente allo stile dei cantieri quindi molto secco, stringato, ho ridotto al minimo citazioni e rimandi e ho cercato in sostanza di proporre una serie di temi per la discussione quindi mi sono attenuto allo stile. Terza cosa, preliminare, mi spiace molto dover comunicare l'assenza di Tullia Catalan che non potrà partecipare ai nostri lavori ma una serie di problemi oculistici abbastanza seri, l'hanno cospreta a rinunciare ha sperato fino all'ultimo di potersi almeno collegare bendata per poter ascoltare ma giustamente i medici gliel'hanno vietato. Quindi farò un breve riassunto come concordato con Tullia del suo testo in modo da colmare questa lacuna e dare continuità alle esposizioni visto che quello di Tullia è il primo che abbiamo inserito, seguiremo esattamente l'ordine che trovate nel programma che è grosso modo un ordine cronologico che abbiamo scelto. Detto questo parto con la mia introduzione. Negli ultimi dieci anni circa le ricerche che a vario titolo legate al tema dell'esilio hanno fatto registrare un notevole sviluppo anche nel nostro paese, la storiografia italiana. Rimangono i ritardi che la nostra storiografia ha accumulato in questo settore di studio, rimangono notevoli soprattutto rispetto a livello di produzione di altre storiografie come quella tedesca in particolare, insomma, che è la più evoluta in questo campo di ricerche. Tuttavia non si può non rilevare un grande fermento di iniziative, impensabile sino a pochi anni o sono. Segnalo solo, così in maniera molto estemporanea, tutta una serie di iniziative, da progetti editoriali, da gruppi di ricerca internazionali, la realizzazione di un'importante banca dati curata da Patrizia Guarnieri, ma è cresciuto anche il numero delle tesi dottorali su tematiche legate all'esilio e agli esigli. Sono aumentati i seminari e i conveni, insomma, mi limito proprio a una così banale e semplice fotografia, insomma, di quello che in grosso modo è avvenuto nell'arco cronologico che ho segnalato. Iniziative, ricerche, eccetera, che hanno riguardato tanto il lungo 800 quanto il 900. e stiamo quindi parlando di un trend che si è ormai stabilizzato e che ritengo non si tratti assolutamente di un fenomeno effimero, ma di una tendenza che mi sembra, insomma, credo, auspico, spero, possa consolidarsi nei prossimi anni. Ecco, partendo da questa semplice constatazione, si possono sviluppare alcune riflessioni. Partendo da alcune domande, si può parlare di un exiltern? Quali sono i motivi alla base di questa ripresa di interesse che si è recentemente delineata rispetto alla storia degli esigli? Ora, al di là dei meriti dei singoli studiosi che, devo dire, tra molte difficoltà e anche tra molto scetticismo, negli ultimi anni si sono addentrati in questo campo di studi. Questa svolta può essere, in primo luogo, considerata la spia, non certo l'unica, di una profonda trasformazione che ha coinvolto la storiografia italiana negli anni in cui stiamo parlando, insomma, nell'ultimo decennio, quindicennio. Essa è essenzialmente il risultato degli intrecciassi di varie dinamiche. Da un lato i cambiamenti strutturali che hanno riguardato il sistema accademico italiano, quelli che hanno interessato più da vicino la storia contemporanea, con la crisi di alcuni vecchi paradigmi interpretativi novecenteschi, e in particolare il declino della dimensione nazionale e l'emerge del cosiddetto transnational term. Vi è infine un ulteriore motivo che io segnalo, che può essere indicato come ulteriore, insomma, fattore che può in parte naturalmente spiegare questo sviluppo, ed è il dato generazionale, ovvero il fatto che da intendersi naturalmente non solo nel senso strettamente anagrafico, ma riprendendo, insomma, la nota definizione Kahn-Mannheim, anche come una condivisione stratificata di esperienze. In effetti, molte delle nuove ricerche che stanno avanzando, che sono già arrivate a risultati interessanti, vedono come protagonisti i giovani studiosi che si sono avvicinati a questo campo di ricerche e che dispongono di un bagaglio di strumenti analitici attinti da varie aree disciplinari che, come ha recentemente messo in luce Peter Burke, sono indispensabili per muoversi negli spazi e nei circuiti culturali entro i quali si collocano le vicende degli esi. Ecco, naturalmente non è qui possibile fornire una fotografia completa e ragionata dell'evoluzione compiuta da questo settore di studi nel periodo indicato, evoluzione che tiene anche conto delle tendenze che hanno caratterizzato il panorama degli studi sul piano internazionale, dove negli ultimi anni naturalmente il classico campo dei cosiddetti design studies si è notevolmente ampliato e tale allargamento, ben rappresentato direi dai temi toccati nelle relazioni che ascolterete tra poco, tale allargamento è stato il risultato di un sempre più stretto dialogo tra le discipline che al pari della storia contemporanea hanno in tempi recenti dimostrato un crescente interesse per le vicende dell'esilio. Non è nemmeno possibile affrontare nel dettaglio i motivi che sono all'origine dello scarso interesse invece che la storiografia italiana aveva in passato riservato al tema dell'esilio. Un interesse essenzialmente confinato in alcuni ambiti di ricerca molto circoscritti e viziati, viziato da vari limiti interpretativi. Tuttavia, se vogliamo parlare di una svolta, la sua portata può essere meglio compresa, se rapportata, all'evoluzione che gli studi di questo settore hanno conosciuto in Italia, a partire dal secondo popoguerra in avanti. Quindi resto molto sul piano generale e provo a indicare sulla base della mia personale l'esperienza di ricerca alcune ragioni del ritardo che questo settore aveva accumulato. In primo luogo indicherei una deformata percezione del fenomeno dell'esilio che è stato per molto tempo considerato alla stregua di una sottocategoria dei tradizionali fenomeni migratori. In secondo luogo aggiungerei il fatto che spesso la vicenda dell'esilio è stata fatta coincide esclusivamente con la mobilità forzata degli oppositori ai regimi totalitari e con le attività politiche da loro portate avanti nei paesi di accoglienza, verso i quali si erano diretti fuggendo dall'Europa. Anche in questo caso l'esilio non sarebbe, ovviamente estremizzo questa percezione non sarebbe nient'altro che una forma di mobilità, un semplice trasferimento, un cambio di residenza, per dirla con una battuta. Una terza ragione rimanda del ritardo accumulato da nostra storiografia alla prospettiva nazionale che per lungo tempo è stata adottata come unico criterio della narrazione dell'esilio, prospettiva che ha quindi di conseguenza generato una letteratura sul caso tedesco, una sul caso francese, una sul caso italiano, sul caso spagnolo, insomma, sono i più importanti, i più principali. Quindi ha determinato una serie di mondi separati che costituivano altrettanti ambiti di ricerca, spesso non comunicanti tra di loro. Vi sono poi altre ragioni più strettamente legate al dibattito scientifico-accademico, alla produzione legata alle dinamiche interne, potremmo dire, a storiografie italiane in questo campo di ricerche. Vi segnalo anche qui, proprio, sono temi su cui insomma mi sono già soffermato, non vorrei rubare troppo tempo. Beh, la prima segnalazione da fare è quella che naturalmente, guardando proprio nello specifico alla storiografia italiana, l'unico settore nel quale si può menzionare l'esistenza di una solida tradizione di studi che recentemente, tra l'altro, ha avuto anche una notevole ripresa, è quello dell'esilio legato al periodo rivoluzionario e alla successiva l'età napoleonica e soprattutto i fenomeni di esilio legati ai tre grandi rivoluzioni liberali, i cicli delle tre grandi rivoluzioni liberali, all'820 fino all'848-49. Naturalmente questo tipo di studi hanno seguito una linea di ricerca per lungo tempo quasi totalmente centrata sull'esperienza dell'esilio politico, secondo uno schema analitico che rimanda a un noto studio, pioneristico studio uscito nel 54, di Alessandro Galante Garrone, appunto, l'immigrazione politica italiana nell'esorgimento. Non mi soffermo ulteriormente, se non per segnalare che solo ultimamente sono appassi molti lavori che hanno allargato il campo di indagini, sono usciti da questo schema della storia politica dell'esilio e hanno cominciato a analizzare tutta una serie di altre varianti, insomma, che sono fondamentali, una prospettiva transnazionale, transatlantica, insomma, nello studio dell'esilio relativo, dei fenomeni di esilio relativi a questa fase. Un secondo elemento è quella su cui ho cercato di riportare l'attenzione più volte, cioè il fatto che nello specifico caso italiano si è determinata spesso una sovrapposizione tra due tipologie di fenomeni che io considero profondamente diverse e non equiparabili, ovvero tra l'esilio e il fuoriuscitismo, cioè l'esperienza di trasferimento momentaneo, temporaneo, di una consistente e molto qualificata categoria di antifascisti dall'Italia alla Francia e dall'Italia alla Svizzera. Ecco, anche qui non evito di dare riferimenti, insomma, dal punto di vista, insomma, bibliografico, ma ci sono delle piste molto chiare, molto interessanti, insomma, su cui ho cercato di, in alcuni lavori, di attirare l'attenzione. Un terzo elemento riguarda l'esperienza dell'esilio ebraico, provocata dall'introduzione delle leggi antiebraiche nel 1938. Anche su questo è stato scritto molto, è stata un'esperienza per lungo dimenticata, su cui, insomma, vi è stata una ripresa di interesse negli anni scorsi, nei decenni scorsi, grazie, insomma, al tema, soprattutto, una ripresa legata soprattutto allo studio dell'espulsione ai docenti italiani dell'università, un tema che verrà ripreso nel contributo di Valeria Galimi. L'unica nota relativamente a quella prima fase iniziale in cui si è cominciato ad analizzare questo importantissimo, peraltro, filone di studi, è quella che, a mio parere, può mettere in luce, che ci induce a mettere in luce che quegli studi iniziali sull'espulsione dei docenti dell'università italiane erano quasi sempre tutti concentrati a indagare o il momento della forzata partenza o il momento del rientro e della reintegrazione nel sistema universitario italiano, ma lasciavano quasi sempre scoperta la parte centrale, cioè la parte relativa proprio all'esperienza dell'esilio, dove erano arrivati, cioè cosa avevano fatto, soprattutto come avevano cercato in qualche modo di rinserirsi una dimensione scientifica accademica nei paesi di accoglienza, eccetera, eccetera. Allora, partendo da queste considerazioni preliminari, è importante riflettere su alcuni nodi metodologici che sono oggi al centro delle ricerche di questo settore. Questa necessità è oggi divenuta più stringente a fronte del citato sviluppo delle ricerche che menzioniamo prima, che hanno, a mio parere, prodotto anche tuttavia una serie di effetti collaterali, chiamiamoli così, negativi, che possono essere così sintetizzati. Uno, la prima effetto, insomma, è l'eccessiva generalizzazione del concetto di esilio, che viene applicato a contesti e situazioni molto diverse tra di loro. E la seconda è la perdita, il secondo effetto collaterale è la perdita di una precisa specificità storica assunta da questo fenomeno, insomma. Questa è una linea che è chiara, insomma, uno sviluppo, insomma, della letteratura internazionale, soprattutto nell'ambito letterario o nell'ambito, insomma, nelle discipline che stanno dando grande spazio ai temi dell'esilio. Da questi assunti si possono derivare alcune indicazioni, quindi, di metodo. Una prima riguarda, naturalmente, la necessità di delimitare il campo di analisi, fissando una precisa definizione, tentando di fissare una precisa definizione del concetto di esilio, che non è una cosa da poco, è un obiettivo molto complesso. Una seconda riguarda, invece, la necessità di contrastare ogni tipo di banalizzazione, a mio parere, di questa esperienza e l'uso metaforico e simbolico che di esso viene spesso fatto, insomma, applicandolo, come dicevo prima, è una gamma molto ampia di fenomeni sociali e culturali che però non, appunto, rischiano di banalizzare il valore, insomma, il contenuto delle tematiche legate all'esperienza di esilio. I casi presentati in questo panel ci raccontano storie di donne e di uomini che si muovono in continuazione, spostandosi da un paese all'altro, in alcuni casi restando all'interno del vecchio continente, in altri casi seguendo rotte che portano, spesso passando per tappe intermedie, verso destinazioni transatlantiche. Sia che si tratti di percorsi individuali che di percorsi collettivi, emerge chiaramente come l'elemento biografico sia fondamentale per entrare nel complesso mondo dell'esilio novecentesco, soprattutto. Tutti i quattro, insomma, i papers sono di taglio novecentesco. Ugualmente importante è la dimensione dello spazio, inteso ovviamente non solo come spazio geografico, ma anche come spazio culturale, concetto caro agli antropologi. Questi due elementi, profilo biografico e dimensione spaziale, sono, a mia parola, basiliari nel mutamento di paradigma che si sta imponendo negli studi riguardanti il fenomeno dell'esilio a cui si è accennato in precedenza. In sostanza, l'esilio non può più essere analizzato come un normale fenomeno migratorio, la cui evoluzione viene descritta secondo un approccio metodologico tipico degli studi dedicati alla storia delle migrazioni entro lo spazio compreso tra un luogo di partenza e un luogo di arrivo. Al contrario, nel momento in cui in esso viene valorizzata la componente legata alla circolazione delle idee, alla creazione di network scientifico-culturali, ma anche economico-imprenditoriali, come sappiamo, da un filone importante che si è aperto negli ultimi anni grazie alle ricerche di Katrin Briss nell'area del Mediterraneo, agli intrecci e alle contaminazioni tra esperienze diverse, la dimensione spaziale di riferimento muta, cambia profondamente. In sostanza, questa prospettiva di studio richiede un approccio che si potrebbe definire, qui prendo a prestito un termine usato in primis dall'istorica economia, translocal, con il quale è possibile seguire la veicolazione delle idee, la concentrazione di conoscenze in luoghi circoscritti, in vere e proprie comunità di sapere, cosmopolite che si conformano al centro di network culturali, accademici, artistici, caratterizzati da una levata, non a caso, concentrazione di esul. Certo, dellineare la filosofia di queste comunità non è semplice e richiede ricerche complesse, tuttavia i contributi, ad esempio, che qui vengono presentati confermano che studiare l'esperienza dell'esilio significa occuparsi non solo dei processi, ovvero dei percorsi, della mobilità delle persone, ma anche dei prodotti, ossia del contributo a vario titolo, a vario livello, in vari contesti, fornito dagli esuli in diversi campi disciplinari, mirato alla trasformazione delle conoscenze nel corso dell'Ottocento e anche del Novecento. Quindi scavando dentro le culture dell'esilio, componendo, scomponendo le mappe culturali prodotte a questa esperienza, è possibile, non facile, non semplice, cogliere i tratti fondamentali, io credo, capire l'importanza dell'esperienza dell'esilio nella storia culturale, intellettuale e politica del ventesimo secolo. Ecco, l'ultimo punto che richiamiamo, richiamo in relazione ai testi, alle presentazioni che adesso ascolterete, riguarda, è un tema anch'esso legato alla dimensione spaziale e alla dimensione della mobilità, è quello della ridefinizione delle identità nazionali che caratterizza l'esperienza dell'esilio e le trasformazioni di questa identità subisce nelle varie fasi di vita dei protagonisti di questa esperienza. Ivi inclusa anche quella che riguarda la complessa, in larga parte ancora da studiare, questione del rientro nei paesi di provenienza e la ricollocazione professionale e politica anche degli esili. Tra questo, tema questo che si intreccia con quello dei rientri, in parte, legati alle migrazioni forzate, nel secondo parere. Questo è un fronte nuovo, per certi aspetti, in parere, anch'esso non di semplice approccio, che ritornerà, credo, insomma, nel contributo di Chiara Rez. Ecco, io ho concluso la mia introduzione. e adesso, come anticipavo, provo a presentarvi, riassumere, vi faccio proprio un riassuntino, del contributo di Tullia, Catalan, che aveva questo titolo, La quotidianità dell'esilio nelle memorie delle donne ebrei in fuga dalla Shoah. Il contributo è focalizzato su una serie di storie esemplari che ha individuato Tullia Catalan attraverso le sue ricerche. Donne che partono, che iniziano l'esperienza dell'esilio con le famiglie, i bambini, le sorelle, in alcuni casi anche con le madri anziane, non sempre con i mariti o con i compagni. e sono percorsi che Tullia Catalan segue da varie destinazioni, partenze europee a varie destinazioni estraeuropee, soprattutto Nord e Sud America, e che è focalizzato appunto sull'esilio delle donne ebree. Su questo c'è naturalmente un'interessante storiografia, non mi soffermo. Quello che propone Tullia Catalan è uno studio della dimensione quotidiana, della vita quotidiana dell'esilio femminile e lo fa attraverso l'utilizzo di una serie di memorie, diari e anche testimonianze orali che sono, come indica precisamente nel suo paper che è stato caricato, quindi trovate le indicazioni, voglio dire, del caso, in molti archivi sparsi nel mondo, parte di questi materiali sono anche digitalizzati, quindi di facile accesso. E questa serie di materiali, diari appunto, testimonianze, lettere, eccetera, spesso danno una serie di informazioni importantissime sulla dimensione della vita quotidiana. Adesso accenderò a qualcosa, non prima però di aver ricordato i tre casi che lei prende in considerazione, quello di Alma Morpurgo, quello di Silvia Rosselli e quello di Giorginia Levi. Lo studio di questi materiali, secondo Catalan, offre una serie di interessanti informazioni importanti sul momento della partenza, ad esempio, sul momento, insomma, della preparazione della valigia, come scrive, e il momento dell'abbandono fisico del territorio italiano e sull'inizio di una nuova dimensione, sull'inserimento di una nuova dimensione domestica, quindi una parte delle riflessioni di Tullia-Catalan è dedicata alle nuove case dove queste esuli si spostano e si inseriano l'inserimento nella dimensione, la nuova dimensione che le accoglie e il rapporto con le tradizioni, anche culinari, ad esempio, si sofferma anche su questo, locali. I tre casi sono molto diversi tra di loro, sono stati scelti a caso, Giorginia Levi andrà in Bolivia, in questo caso è un esilio che avviene assieme al marito ebreo tedesco che era già la sua seconda immigrazione, la coppia rimane in Bolivia fino al 1946 e appunto di questa esperienza ci sono dei resoconti molto interessanti che Tullia rielabora, rinterpreta. Il secondo caso è appunto l'altro caso che viene esaminato è quello di Silvia Rosselli e il terzo di Giorginia Levi e vengono questi casi appunto vengono sviluppati seguendo insomma sempre questo filone, questo approccio legato molto alla vita, alla dimensione insomma della vita materiale concreta dell'esilio. Ecco, io ho finito il mio compito a questo punto direi che possiamo iniziare e seguendo l'ordine passo la parola a Valeria Galini. Professore, sono Chiara Renzo, Valeria Galini ha un problema tecnico, quindi se possiamo andare avanti intanto con gli altri assolutamente non lo sapevo non riesce a entrare non riesce a entrare quindi si sta spostando in un altro posto per avere insomma c'è un problema di elettricità nel suo quartiere quindi si sta spostando magari andiamo avanti allora assolutamente sì passo a te la parola Chiara che credo che ci sia prima l'intervento di Giuliana Altea o sbaglio? No no nell'ordine Giuliana Altea è l'ultima quindi è proprio tocca a te in assenza di Valeria quindi Chiara Renzo Università di Firenze uno stato di esilio permanente profughi ebrei in Italia dopo il 1948 grazie sì io mi sposto cronologicamente dopo la seconda guerra mondiale gli alleati si trovano di fronte ad un'emergenza profughi senza precedenti circa 7 milioni di uomini e donne e bambini che si trovano fuori dal confine del proprio paese e anche circa due anni dopo la fine del conflitto quando sono stati effettuati numerosi rimpatri più di un milione di persone viveva ancora nei campi profughi di Germania Austria e Italia assistiti da una rete di organizzazioni umanitarie internazionali nel 1945 la prima organizzazione che si prende cura dei profughi ma non solo soprattutto della ricostruzione dei paesi colpiti dalla guerra è nota con l'acronimo UNRRA United Nations Relief and Rehabilitation Administration che per gestire la questione dei profughi applicava dei criteri molto rigidi per la classificazione e l'attribuzione appunto del diritto all'assistenza internazionale questo status che è di Displaced Person abbreviato con DP veniva concesso solo a coloro che provenivano da paesi alleati e che potevano dimostrare che durante la guerra erano stati perseguitati per motivi religiosi politici e razziali questo criterio diciamo generale viene rivisto varie volte ma comunque rimane la regola generale rimane rimane sempre questa nel dicembre 1946 l'assemblea generale delle Nazioni Unite vota a favore della costituzione di un'agenzia esclusivamente incaricata di gestire la questione dell'ultimo milione di profughi in Europa questa agenzia prende il nome di International Refugee Organization che è nota anche con l'acronimo AIRO e che è attiva tra la metà del 1947 e il 1951 che è la data in cui viene firmata la convenzione di Ginevra e quindi nasce l'alto commissariato delle Nazioni Unite dei Rifugiati a luglio del 48 quindi quando l'AIRO inizia la sua missione in Europa ci sono poco più di un milione di profughi che si trovano principalmente in Germania dove ce ne sono circa 850 mila in Austria dove ce ne sono circa 150 mila e in Italia dove ce ne sono circa 40 mila di questo totale solo poco meno del 15% sono ebrei per l'80% di nazionalità polacca e che fino al 1948 fino quindi alla fondazione dello Stato di Israele costituiscono un problema di portata internazionale che è dibattuto soprattutto tra gli alleati anglo-americani già da tempo la storiografia soprattutto quella italiana e israeliana ha messo in evidenza che l'Italia pur ospitando un numero ridotto di profughi per esempio nel 1947 a luglio ce ne sono circa 17 mila l'Italia gioca un ruolo molto importante e strategico diventando il luogo di imbarco clandestino per gli ebrei europei che tentavano di infrangere il blocco dell'emigrazione imposto dal mandato britannico che governava la Palestina dal 1900 questo blocco era stato imposto appunto dal 1939 invece solo in tempi più recenti numerosi studi sono apparsi e analizzano diversi aspetti della vita all'interno dei campi tuttavia la maggior parte di questi studi si focalizza esclusivamente sul triennio 45-48 quindi dalla fine della seconda guerra mondiale alla fondazione dello stato di Israele ed effettivamente nel 48 i campi profughi molti profughi ebrei si registra un'emigrazione di massa dei profughi ebrei dai campi verso Israele però questo non svuota i campi e la presenza ebraica anche in maniera ridotta rimane per esempio in Italia a settembre del 49 ci sono ancora 5.000 profughi ebrei che sono bisognosi di assistenza all'interno del campo ma anche per emigrare e trovare un paese di accoglienza quindi questo contributo prende in esame il caso dei profughi ebrei definiti ARCOR che è un termine che nel linguaggio utilizzato dal sistema che all'epoca governava il regime dei rifugiati indicava quei profughi che principalmente per la loro età avanzata e per le loro condizioni di salute precaria avevano scarsissime possibilità di essere ammessi ai programmi di ricollocazione quindi di emigrazione non rappresentando potenziale forza lavoro ma costituendo invece un potenziale peso sulle spalle dello Stato che poi li avrebbe accolti questi profughi ARCOR erano tagliati fuori da qualunque possibilità di emigrare ed erano quindi destinati a ricevere assistenza costante per tutta la vita l'insieme all'Airo furono soprattutto le organizzazioni ebraiche a prendersi cura di questi ARCOR in particolare l'American Jewish Joint Solution Committee che è noto anche come Joint che si prodigò per cercare di migliorare le condizioni sia di salute che di ricollocamento di questi ARCOR alla fine del 49 la missione Joint in Italia che era quasi al suo termine segnalava con preoccupazione la presenza di 478 casi di profughi ebrei ARCOR e dei loro 150 accompagnatori per la maggior parte si trattava di malati di tubercolosi o malati in via di pazienti in fase di riabilitazione anziani persone con patologie gravi malati cronici e casi psichiatrici grazie all'Airo la maggior parte di essi si trovava in strutture specializzate gli anziani per esempio si trovavano soprattutto nelle case per anziani delle principali comunità ebraiche italiane che erano state risistemate con gli aiuti internazionali di queste organizzazioni ebraiche e per esempio i malati di tubercolosi si trovavano principalmente nel sanatorio di Merano vicino a Bolzano oppure nel centro di riabilitazione di Grotta Ferrata vicino a Roma sempre costruiti diciamo finanziati e gestiti dal Joint il primo fu attivo fino al 1952 e il secondo fino al 1957 i fascicoli per esempio personali dei DPs sono interessanti come diceva il professore prima per ricostruire un po' la vita di queste persone questi fascicoli sono conservati oggi agli archivi agli Arholzen Archives che sono appunto a Badarholzen in Germania e ci permettono di ricostruire sia il background che l'esperienza da profughi e da hardcore in Italia tra i tanti per esempio c'è il 72enne David Siegfried che era un ebreo tedesco che nel 38 aveva lasciato il suo paese per via delle persecuzioni e si muove prima in Francia poi a Zagabria fino ad arrivare a Milano nel 39 in quanto ebreo straniero nel 40 viene internato prima nel campo profughi di Civitella del Tronto e poi in quello di Campania e poi viene liberato appunto il campo di Campania dagli alleati nel 44 e Siegfried diventa un profugo e viene prima spostato nei campi profughi in Puglia e finché nel 1950 richiede l'assistenza dell'Airo per emigrare negli Stati Uniti dove aveva un cugino in quanto a Polide e in quanto ex perseguitato l'Airo gli concede questa assistenza ma che un medico sempre dell'Airo lo dichiara un caso hardcore per via di una patologia che gli viene diagnosticata viene tagliato fuori da questa quota di emigrazione aperta dagli Stati Uniti da un documento dell'archivio del Joint sappiamo che nel 1952 questo profugo David Siegfried era ancora profugo bisognoso di assistenza e senza speranza di poter emigrare motivo per il quale il Joint se ne occupa e lo trasferisce nella casa per anziani della comunità ebraica di Firenze un altro caso insieme a David Siegfried che viene proprio spostato dal campo profughi di San Antonio alla comunità ebraica alla casa per anziani della comunità ebraica di Firenze è quello di David Goldberg si tratta di un ebreo nato a Sebastopoli nel 1887 da dove all'età di sei mesi si sposta con la sua famiglia in India per motivi insomma legati ai pogrom dopo dopo diciamo aver vissuto la sua intera vita a Bombay e dopo un breve soggiorno in Pakistan decide di emigrare nel 1948 quindi all'età di 61 anni in Israele un po' spinto dagli amici e un po' dalla propaganda dell'ufficio dell'agenzia ebraica a Bombay soprattutto alla ricerca di un lavoro migliore delle condizioni lavorative migliori le sue aspettative però vengono deluse perché quando arriva in Israele viene viene collocato in un campo di transito e ha molte difficoltà a trovare un lavoro alla sua età quindi vuole ritornare in India ma da Israele non può ritornare direttamente in India quindi decide di arrivare in arriva in Italia e vorrebbe insomma il suo desiderio era quella di tornare in India dall'Italia con l'assistenza soprattutto internazionale dell'Airo ma l'Airo non gli concede questa assistenza e anche se lui fa numerosi appelli ha sempre un risponso negativo finché nel 1951 all'età di 64 anni resosi conto di non avere più mezzi per tornare in India né tantomeno per emigrare non avendo le carte in regola diciamo così per emigrare chiese protezione politica e legale in questo caso la ottenne e venne spostato anche lui nella casa per anziani di Firenze però non tutti ebbero questa possibilità di avere l'assistenza internazionale per esempio è il caso del 36enne Mushidwani che nella 1954 si trova nel centro di riabilitazione di Grotta Ferrata ed è un ebreo bengasino che viene internato dalla polizia dell'Africa italiana nel campo di internamento di Giado in Tripolitania nel 1942 dove molti c'è un campo noto perché molti morirono proprio per malnutrizione e tifo prima dell'arrivo degli alleati ma anche nella fase di evacuazione del campo dopo la liberazione e proprio da quel campo di concentramento Mushidwani tornò a bengasi malato di tubercolosi motivo per il quale ottiene un visto per arrivare in Italia e curarsi un regolare visto e viene ricoverato nel sanatorio di Merano chiede assistenza all'Airo per emigrare in Israele perché siamo dopo il 1948 ma non essendo riconosciuto come vittima di persecuzione anche se lui fa leva sul fatto che la sua malattia è stata causata dall'internamento a Giado l'Airo si rifiuta di dare l'assistenza quindi le sue cure e la sua permanenza in Italia sono tutte a carico del joint che appunto se ne prende cura fino agli anni 50 poi ovviamente questi documenti non ci permettono di percorrere tutta la vita di questi profughi anche quando il governo israeliano apre le porte all'immigrazione legale quindi alla LIA legale questi hardcore rimangono esclusi da queste quote di emigrazione perché il neonato stato di Israele non aveva disposizione nelle risorse economiche nelle infrastrutture per prendersi carico di queste persone bisognose di cure mediche soprattutto ma anche di assistenza in generale allo stesso modo ogni prospettiva di rientrare nelle quote di emigrazione era impossibile quindi le uniche chance di lasciare l'Italia e di acquistare una nuova cittadinanza e i diritti ad essa connessi erano veramente residui e in questo fu determinante la presenza delle organizzazioni di volontariato alle quali si rivolsero queste persone soprattutto per esempio quelle della centro di grotta ferrata che fu chiuso solo nel 1957 infatti sono loro che si dicono in uno stato di esilio permanente perché non riescono a uscire da quella condizione in cui si trovano quindi per creare una via di uscita dall'Italia il Joint insieme a un'organizzazione ebraica specializzata nella formazione professionale che si chiama Organization for Rehabilitation through Training nota anche come ORT lancia un programma di terapia occupazionale per permettere soprattutto ai pazienti malati di tubercolosi di qualificarsi per come possibile in un mestiere e acquisire priorità nei programmi di ricollocamento e nel 1950 l'ORT stimava che decine di pazienti di Merano e di Grotta Ferrata stessero studiando per conseguire i diplomi di radiotecnico pellettiere elettricista fototecnico orologiaio eccetera l'offerta di formazione professionale come si legge in un report dell'ORT aveva suscitato grandi speranze nella vita di questi profughi ebrei estremamente infelici e soprattutto in quanto il governo israeliano aveva dichiarato la disponibilità ad aprire le porte a 25 profughi al core al mese selezionando proprio le persone che avevano completato questo ciclo di formazione professionale infine fu sempre il joint a negoziare con il governo israeliano una via di uscita anche per i casi più gravi attraverso la costruzione di una serie di case per anziani ospedali e cure case di cura per malati di tubercolosi centri di riabilitazione eccetera che rientravano in un programma che prese il nome di Malben in ebraico l'acronimo di istituzioni per la cura degli immigrati disabili e fu attivo appunto negli anni sessanta accolse non solo ovviamente i profughi al core ma anche altri profughi altri diciamo emigrati provenienti da altri paesi bisognosi dello stesso tipo di cure quindi in questo caso sono le organizzazioni di volontariato che si presero cura di risolvere diciamo di porre fine a questo stato di esilio permanente in cui si trovavano i casi al core io ho terminato benissimo grazie a Chiara Renzo io non ho notizie di Valeria Galimi speriamo che riesca chiederei magari ai nostri tecnici ci sono allora mi scrive che tra cinque minuti è pronta quindi non so se allora questo punto questa è una buona notizia però a questo punto in ogni caso farei parlare Giuliana Altea e così non perdiamo minuti utili Giuliana Altea presenta un testo che è intitolato l'esilio di Costantino Annivola costruzione identitaria e maturazione artistica mi permetto di aggiungere due breve note di presentazione di Giuliana Altea in quanto non è socio al Cisco ma non è neanche una storica contemporanea quindi non fa parte della nostra comunità scientifica e quindi per dovere di cortesia aggiungo che è professore associato di storia dell'arte contemporanea a Sassari e i suoi campi di ricerca riguardano la cosiddetta sintesi delle arti fra gli anni 30 e 50 e la ricezione dell'arte italiana negli Stati Uniti nel secondo dopoguerra uno dei focus delle sue ricerche su cui ha prodotto dei lavori molto importanti riguarda appunto la figura sia artistica ma anche legata all'esilio di Costantino Annivola e dal 2015 presiede appunto il presidente della fondazione Annivola che è un centro importante per le ricerche legate a questa straordinaria figura di artista e anche di esule prego Giuliana a te la parola grazie Renato per questa presentazione io vi condivido lo schermo perché chiaramente trattandosi di un artista visivo ho bisogno di un supporto di immagini perché possiate seguire il mio discorso quindi vediamo un attimo share screen va bene però come faccio non mi si sta aprendo no scusate aspettate condividi schermo si no lo sto facendo però poi deve selezionare la finestra credo ne appaiono diverse ecco perfetto adesso ho aperto non mi si era aperto scusatemi ecco nessun problema adesso ci siamo ci siamo no non ci siamo ancora non ci siamo ancora perché ok lo vedete sì è inquadrato benissimo allora Costantino Di Vola intanto è uno dei rarissimi artisti italiani che abbiano lasciato l'Italia in quanto antifascista però non è su questo che mi concentrerò quanto piuttosto sul valore particolarmente chiaro il valore trasformativo particolarmente chiaro che l'esilio ha nel suo caso è un esilio che unisce un processo di formazione artistica uno di costruzione identitaria costruzione identitaria tra l'altro piuttosto complessa perché la vita di Nivola è stata tutto un seguito di spostamenti dalla campagna alla città dalla Sardegna a Milano da Milano all'Europa e da qui e da qui agli Stati Uniti Nivola nasce nel 1911 in un piccolo paese della Barbagia famiglia poverissima padre padre muratore che lui segue in cantiere fino ai 14 anni poi va a studiare grafica all'Istituto Superiore delle Industrie Artistiche di Monza dove Giuseppe Pagano è una figura chiave dell'architettura modernista italiana e uno dei suoi maestri lo coinvolge in tutta una serie di lavori di decorazione per importanti mostre dalla triennale di Milano del 36 al padiglione italiano all'Expo di Parigi del 37 poco dopo Nivola diventa direttore artistico dell'ufficio pubblicità Olivetti ma lui è anche un antifascista come se non bastasse nel 38 sposa una donna ebrea quindi deve lasciare l'Italia prima per Parigi e quindi subito dopo per gli Stati Uniti arriva a New York nel luglio del 1939 questa è un'immagine un dipinto di qualche anno dopo che rievoca quel primo momento di disorientamento che peraltro dura abbastanza poco perché non va avanti scusatemi non so cosa stia succedendo mi si è imballato il computer tragico cioè quando uno ha poco tempo succede sempre qualcosa che non va bene ok sembra che abbia ripreso sì ok dicevo questo primo periodo difficile dura poco perché già nel 40 troviamo Nivola direttore di Interiors che è una rivista di arredamento che lui stesso contribuirà ad aggiornare ad aprire al modernismo lo stesso tipo di incarichi ricopre per altre riviste di architettura di moda varie altre riviste gli immaginati che disegna per Interiors devono molto alla sua esperienza italiana si rifanno alla grafica di riviste come Casa Bella e come Domus però non è tanto l'identità italiana che Nivola si appoggia per farsi strada negli Stati Uniti quanto piuttosto al prestigio culturale dell'essere europeo per esempio si rifà il surrealismo che in Italia non era affatto popolare e questo suo profilo europeo viene rafforzato dalla frequentazione del Jumble Shop un locale nel village dove artisti europei emigrati come Mondrian o come Leger incontrano invece artisti dell'ambiente americano da Gorky a Hoffman diciamo che questa questa identità europea in realtà è uno stratagemma pratico una scorciatoia pratica per affermarsi nel mercato editoriale americano perché in realtà poi Nivola continua a presentarsi a tutti sia americani che emigrè come sardo come sardo nei gesti negli atteggiamenti nel modo di parlare più tardi si circonderà anche di oggetti di artigianato portati dalla Sardegna poserà per il fotografo vestito con l'abito di velluto dei pastori sardi Nivola lavora lavora come art director tre giorni nella settimana e il resto del tempo lo dedica alla pittura che continua a considerare la sua vera vocazione ma proprio in pittura sta attraversando una crisi una crisi difficile perché a Milano lui era noto come un grafico un decoratore ma era anche un pittore per di più la sua frequentazione dell'ambiente delle grandi mostre del fascismo lo aveva abituato a non riconoscere gerarchie tra l'arte cosiddetta ambiziosa la pittura e la scultura e invece le commissioni per l'industria e a New York le cose sono ben diverse a New York un critico come Clement Greenberg ha scavato un oiato profondo tra arte alta e bassa tra avanguardia e quello che lui chiama kitsch in questo contesto Nivola si trova ridefinito come un commercial artist un'etichetta che chiaramente gli va stretta comincia così un affannoso processo di ricerca di sé che si rispecchia sulla sua produzione artistica in una serie di disegni di New York lui ha dato un tratto un fine sottile un'immagine estremamente affollata per rendere degli scenari urbani che assumono un sapore grottesco un sapore surreale e in questa sua esplorazione di New York gli è vicino un altro emigrato il disegnatore Saul Steinberg che lui aveva conosciuto a Milano prima della guerra ritrovato a New York e da Steinberg discende proprio questa nitidezza e precisione del tratto mentre l'affollamento e la densità allucinata delle scene sono tipiche di Nivola e rendono perfettamente al tempo stesso il senso di eccitazione che è trasmesso dai ritmi accelerati del vivere nella città del vivere metropolitano ma anche il senso di inquietudine il senso di disorientamento che questo produce dalla città poi il suo sguardo si sposta su se stesso Nivola si autoritrae in una serie di tempere che lo rappresentano in scenari di solitudine urbana con questa faccia verde da alieno a segnalarne le straneità le cose cambiano nel 46 quando dipinge la seconda versione di un quadro una veduta di Times Square che aveva già realizzato tre anni prima vi introduce però un cambiamento interessante cioè un gruppo formato da lui stesso il figlio Pietro nato nel 44 e la moglie Ruth la città che prima era un oceano di informazioni caotiche un luogo angosciante ed alienante adesso si apre ad accogliere i nuovi venuti è diventata un luogo un luogo familiare lo stile infantile quasi da fumetto che Nivola adotta in queste opere ancora una volta si rifà a Steinberg ma al tempo stesso riflette quel senso di regressione all'infanzia che è tipico che diciamo così fa parte dell'esperienza dell'esperienza dell'emigrato essere un emigrato vi faceva ridiventare bambino diceva Steinberg e Nivola dal canto suo diceva quando uno arriva in America deve ricominciare dall'inizio questo significa ritornare alla propria infanzia comunque questa atmosfera di alienazione di solitudine esistenziale che le tempere ci consegnano non corrisponde alla realtà perché a questo punto siamo nel 44 Nivola è già piuttosto ben inserito negli Stati Uniti anzi stando a Peter Blake all'epoca curatore del dipartimento di architettura del MoMA a New York Nivola è un po' il centro del piccolo mondo dell'avanguardia di Manhattan e i pranzi che lui tiene al ristorante del pezzo ogni mercoledì sono un punto di incontro obbligato per artisti e per intellettuali sia americani sia europei di passaggio chiaramente questa centralità non è tanto un fatto artistico perché Nivola a New York è ancora un esordiente ma piuttosto un fatto di natura sociale lui è bravissimo a mantenere rapporti si muove con estrema disinvoltura negli ambienti più diversi dagli anarchici sardi del Bronx ai fuoriusciti intellettuali italiani dagli maestri del modernismo emigrati agli artisti della scuola di New York qui lo vediamo con Pollock e Lee Krasner è vicino anche agli intellettuali di sinistra raccolti intorno alla rivista Politics il cui direttore è Dwight MacDonald e il cui punto di riferimento è Nicola Chiaromonti un pensatore che Nivola aveva già conosciuto a Parigi e con il quale si lega di un'amicizia che durerà fino alla morte tra l'altro Nivola partecipa anche alle vacanze che la redazione di Politics trascorre spesso in gruppo intorno nei centri nei piccoli centri vicino a Cape Cod e che sono dei momenti di fervido dibattito intellettuale presiduti appunto da Chiaromonte ma un momento di svolta arriva nel 1947 quando Nivola incontra Le Corbusier l'influsso artistico di Le Corbusier su Nivola è stato proclamato per primo dallo stesso artista e poi è stato ripreso ribadito in abbondanza da tutta la regione meno si è detto invece sull'influsso che Le Corbusier può aver esercitato dal punto di vista della ricerca identitaria perché figuriamoci non solo era un genio del modernismo ma agli occhi di Nivola era anche uno che non deve aver mai dubitato della propria identità così scrive in più Le Corbusier non era solo architetto ma anche pittore e scultore questo può aver rinfrescato in Nivola l'idea che aveva assimilato in Italia dei possibili sconfinamenti tra le arti e ancora Le Corbusier lo mette in guardia contro le seduzioni della giovane pittura americana che in quel momento sta emergendo ma che secondo Le Corbusier è troppo irrazionale troppo incontrollata quindi quando Nivola comincia a sperimentare gli stili modernisti è all'Europa che si rivolge e non all'America quindi riprende qualcosa dal surrealismo dal post-cubismo frutto di questi studi sono alcune opere che lo stesso artista considera più che altro esercizi di stile ma non opere pienamente risolte in ogni caso prima di avviare questa trasformazione artistica Nivola deve chiudere i conti con l'Italia infatti ci ritorna nel 1947 con l'idea di ristabilirsi a Milano ma dopo quattro mesi di tergiversazioni finisce per per cambiare idea vivere in Italia sarebbe sicuramente più piacevole più facile anche sul piano professionale ma sul piano etico equivalrebbe a una rinuncia vorrebbe dire rinunciare alle sfide dure e difficili che New York gli pone decide quindi di fermarsi negli Stati Uniti e nel momento in cui lo fa si trasforma in un mediatore attivo tra le due culture quella europea e quella americana con scambi di disegni di soggetto italiano pubblicati sulle riviste americane dei disegni di New York che vengono invece pubblicati in Italia da Domus nel momento in cui decide di fermarsi a New York compra anche una casa una vecchia fattoria a Long Island in una località che oggi è un ritrovo assolutamente lussuosissimo ma all'epoca era invece un luogo di velleggiatura per artisti squattrinati e Nivola restaura la casa con le sue mani la riempie di oggetti venuti dalla Sardegna e soprattutto costruisce un giardino modernista progettato insieme ad un altro emigré Bernard Rudoschi un architetto austriaco convinto che l'architettura non riguarda soltanto la costruzione di edifici ma piuttosto riguarda il modo di vivere un modo di vivere di cui lui vuole ritracciare le radici nell'armonia nell'equilibrio delle culture mediterranee il giardino di Nivola a Long Island è una susseguirsi di open air rooms di stanze all'aperto collegate da pergole questo della stanza all'aperto era un tema già presente nell'opera di Rudoschi mentre chiaramente la pergole è un tratto ricorrente dell'architettura rurale del Mediterraneo presente anche in Sardegna a Dorani e quindi familiare a Nivola nel giardino ci sono dei focolari all'aperto delle panchine un solarium ispirato alle Corbusier ci sono anche dei muri liberi che definiscono gli spazi e su queste strutture Nivola incomincia ad eseguire dei murali qui chiaramente ha contato l'esempio di Le Corbusier che era anche muralista ma anche la suggestione della pittura americana perché insomma per esempio un artista come Pollock tendeva a valicare i confini della tela con i suoi grandi dipinti per espanderli nello spazio il giardino è anche il luogo in cui Nivola scopre la scultura inventa una tecnica il suncasting per fare dei rilievi in un cemento da una matrice di sabbia modellata in negativo e i primi risultati sono questi totem primitivisti ispirati tanto al surrealismo quanto all'arte preistorica la scultura preistorica della Sardegna e queste sculture così come gli affreschi che ogni estate venivano cancellati e ridipinti così anche queste sculture vengono spostate vengono trasformate vengono sostituite come se Nivola volesse reinserire queste opere nel ciclo della vita mettendo in evidenza una dialettica tra permanenza e impermanenza tra stabilità e dimensione effimera che poi rimarrà centrale nel suo lavoro negli anni negli anni successivi il grande rilievo che realizza per lo showroom Olivetti nella Fifth Avenue nel 1954 fa di lui uno scultore per l'architettura gli procura una quantità di commissioni importanti il suncasting applicato all'architettura finisce per immedesimare la scultura nella parete togliendo le enfasi in un certo senso però non ne sminuisce la monumentalità molte di queste opere hanno anche proporzioni proporzioni grandiose e questo diciamo così va sul versante della permanenza così come anche l'abitudine che Nivola ha di insistere sul tema della costruzione di richiamarsi alla memoria del padre muratore di richiamarsi e di appellarsi all'eredità della grande architettura muragica della Sardegna sull'altro versante quello della transitorietà o dell'effimero c'è invece il giardino il giardino che è un luogo per la socialità dove grandi comitivi di amici si uniscono in tutti i fine settimana dove gli artisti di passaggio dalle corbusier a munari lasciano lasciano le loro opere nel giardino prende forma l'idea di un'arte che non sia circoscritta alla creazione alla produzione di oggetti materiali ma che guardi al di là che guardi verso una dimensione di collettività e di socialità no scusate di nuovo è successa la stessa cosa un secondo ok sì ok dicevo quindi si aprono delle prospettive nuove grazie grazie al giardino è un'opera cruciale da questo punto di vista il Pergola Village un progetto che lui pubblica su Interiors nel 1953 un progetto per il suo paese Orani di cui vorrebbe unire tutte le case con delle pergole di vite degli intonaci bianchi e uno zoccolo azzurro per trasformare le strade in luoghi da vivere collettivamente e questo progetto in realtà risale ai primi tempi dell'esilio a conversazioni avute nel 1943 con Emilio Lussu quando Nivola proponeva una volta che insomma finita la guerra di collegare tutte le case di tutti i paesi sardi in questo in questo modo chiaramente era un modo per simboleggiare in maniera visivamente efficace il legame sociale indizio di una tendenza utopica nell'arte di Nivola e questo progetto del Pergola Village fa parte di una serie di opere che Nivola battezza monumenti per celebrare la vita tra queste c'è per esempio una grande cucina scultura con molti fuochi in cui cucinare dei cibi speciali durante le feste c'è un labirinto pieno di sorprese visive c'è una fontana cosiddetta musicale che il proprietario può riconfigurare dandogli la forma che desidera sono tutti quanti i progetti che mettono in primo piano la partecipazione il coinvolgimento dello spettatore al centro ci sono due temi da un lato quello dell'esaltazione dell'esperienza vitale che è stata smorzata smimita dalla vita nella città industriale dall'altra quello di una tensione verso una dimensione sociale e collettiva e sono entrambi i temi che risalgono all'esperienza dell'esilio che Nivola diciamo così assimile durante l'esperienza dell'esilio perché l'idea dell'esaltazione dell'esperienza vitale risale a Rudolfski a tutta quanto una linea di pensiero viennese modernista che tende ad identificare esistere quotidiano ed esperienza artistica l'idea di comunità si deve ad un altro emigrato Joseph Louis Sert architetto che teorizza il cuore della città un tipo di nuovo centro monumentale fatto per favorire la socialità circondato da vie coperte con portici o con pergole ma la comunità comunque anche al centro del pensiero di Adriano Olivetti che Nivola rivede quando va in Italia nel 1947 così come pure è presente nel pensiero di Nicola di Nicola Chiaromonte a proposito di Chiaromonte Mary McCarty che era una dei redattori della rivista Politics ricordando le stati trascorse in gruppo con Chiaromonte a Cape Code alle quali anche Nivola aveva partecipato aveva scritto sembrava ancora possibile utopico ma possibile cambiare il mondo su piccola scala cambiare il mondo su piccola scala è un'idea che nota e familiare a quanti conoscono le esperienze di arte relazionale di arte partecipativa di arte come pratica sociale avviate a partire dagli anni 90 però questa idea dei piccoli progetti che cambiano il mondo la ritroviamo anche al fondo dell'opera di Nivola di opere come il giardino come il pergola village come i monumenti per celebrare la vita concludendo concludendo dal 1950 in poi nell'opera di Nivola si fondono spunti di provenienza molto varie dal razionalismo architettonico italiano alla civiltà mediterranea alla tradizione sarda l'influsso di Le Corbusier le suggestioni della scuola di New York le verite urbanistiche di CERT il pensiero sociale di Olivetti e l'immaginazione utopica di Chiaromonte spunti diversi a far da collante tra questi spunti è chiaramente l'esperienza dell'esilio è stato l'esilio che ha reso Nivola messo in grado Nivola di proporre di sviluppare una proposta artistica originale grazie io ho finito grazie Giuliana Altea aspettiamo se liberi sì sì sto un secondo grazie sto cercando non mi appare perché hai fatto ok perfetto perfetto grazie sì sei riuscita nell'impresa di raccontare tantissime cose in pochi minuti giusto per non perdere perdere minuti preziosi cedo subito la parola a Valeria Galimi che finalmente si è collegata e che ci parlerà della scelta dell'esilio nuovi itinerari professionali dei docenti espulsi dall'università italiana prego Valeria grazie intanto saluti a tutti a tutte e scusatemi ma appunto ho avuto queste disavventure perché cinque minuti prima del nostro appuntamento tutto il quartiere è rimasto senza elettricità perché c'è stato un temporale quindi ho visto che non mi riuscivo a collegare con il telefono e ho fatto un attraversato della città per arrivare qui in dipartimento scusatemi e comunque sono riuscita ad ascoltare ho perso parte di quello di Chiara ma che conoscevo bene quindi mi ha fatto molto piacere ascoltare il resto del panel e ringrazio appunto Renato Camurri per aver organizzato e per avermi invitato a questo panel che intende e lo abbiamo visto discutere alcuni aspetti della stereografia sull'esilio a partire da ricerca in corso appena svolte con dei punti di prospettiva un po' eccentrici talvolta nel mio caso queste riflessioni partono da una ricerca appena conclusa sulla politica della razza in alcune università italiane un lavoro che avevo svolto anni fa sull'università di Modena e che ora ho aggiornato ed esteso ad altri due a due atenei Ferrara e Parma Ferrara è un caso tutto da ricostruire mentre c'è fino adesso solo uno studio parziale su Parma questi lavori entreranno a far parte di un lavoro un progetto più complessivo curato da Tommaso Dell'Era che vedo qui presente e David Mengagi che cerca di fare il punto dieci anni dopo un seminario modenese del 2009 su appunto l'applicazione delle leggi razziali nelle università italiane e l'idea è quella di tenere insieme tutti gli aspetti dell'applicazione dei provvedimenti per la difesa della razza che nel 1938 vengono applicati a scuole e in nostro caso università quindi espulsione docente e studenti sostituzione promozione di nuovi insegnamenti razziali studio dei percorsi e reintegro è quindi qui nei percorsi professionali dopo l'espulsione che ho incrociato gli studi sull'esilio perché un gruppo nutrito di questi docenti scelto di migrare all'estero per poter continuare la loro attività professionale ora rinvio diciamo ai saggi che sono anche saggi abbastanza lunghi in corso di pubblicazione e preferisco in questo poco spazio così da lasciare a Antonella Salomoni il modo di appunto di fare i suoi commenti riprendere alcuni nodi tematici e interpretativi che ritengo utili per la nostra discussione lo è stato detto lo ha già fatto Renato Camurri in modo molto conciso e efficace nella sua introduzione si tratta a mio avviso di per chi si accinge diciamo a completare a riprendere lo studio dei percorsi dei docenti diciamo che espulsi dall'università e che quindi hanno delle esperienze professionali all'estero di incrociare in modo fecondo gli studi sull'esilio e appunto la storiografia sull'applicazione delle leggi razziali in Italia che ha insistito come ovvio molto sull'organizzazione della macchina persecutoria e sui destini più in Italia e le conseguenze di queste vicende d'Italia l'esilio in questo caso non è inteso solo come scelta politica di cui si è a lungo sottolineata la dimensione correggiosa eroica e così via ma come una scelta che ebbe conseguenze economiche difficoltà materiali psicologiche di integrazione nel nuovo paese da adozione da parte dell'esole in questo caso lo studio diciamo che intende portare avanti i fundi a Catalan con questa prospettiva delle donne mostra bene ecco questo aspetto di vita privata su questo poi tornerò diciamo dal punto di vista metodologico con alcune notazioni appunto quello che vorrei sottolineare qui è che seppure la storiografia sull'applicazione delle leggi razziali in Italia ha visto ormai da tempo uno sviluppo considerevole ancora il tema del lavoro della perdita del lavoro e delle perdite professionali a mio avviso non ha trovato un sufficiente scavo analitico e soprattutto un'adeguata sistematizzazione e si trattò di ovviamente un numero molto ampio di soggetti coinvolti nel testo nell'altrato lungo cito questo lavoro recente di Capristo e Fabres il registro che mostra appunto la presenza nel registro della Corte dei Conti di quanti diciamo impiegati nelle istituzioni pubbliche furono coinvolti non solo università ma appunto un quadro molto ampio il secondo punto è appunto è quello che a oggi manca diciamo un quadro generale lo ha detto anche Camurri del fenomeno dell'emigrazione ebraica analitico nonostante ci siano lavori molto pregevoli ovviamente ci sono delle belle ricerche sui percorsi degli intellettuali il lavoro di Arturo Marzano in Palestina è già stato citato il lavoro di Patrizia Guarnieri su intellettuali in fuga un progetto in corso un database ma prova a fare appunto insieme queste biografie e che ha il merito proprio di costruire la parte mancante cioè quello che succede a queste figure dopo la fuga dall'Italia lo definisce il fenomeno del brain drain sulla base anche di fonti di archivi internazionali di cui ricordo solo l'Emergency Cometty in Aid or Displaced Foreign Scholars conservato a New York archivi statunitensi idraliani e così via quello che su cui vorrei attirare la vostra attenzione è che per quanto riguarda la migrazione ebraica noi parliamo forse è necessario prestare attenzione alla periodizzazione perché noi sappiamo che l'immigrazione in Italia comincia nel 1938 prima l'Italia è questo rifugio precario una definizione dello storico Klaus che viene ripresa che viene spesso ripresa dal 1980 l'Italia è un paese in cui arrivano dei profughi e degli esili dalla Germania e dell'Europa orientale quando scoppia diciamo quando si verifica appunto la inizia la migrazione per le leggi razziali in Italia siamo nel momento in cui c'è una crisi umanitaria in atto in Europa con flussi migratori che arrivano dall'Aus e dalla Spagna e di cui sembra banale ricordarlo la conferenza di Elia del luglio dello stesso anno a cui non riuscì a dare disposta quindi l'immigrazione ebraica in Italia in particolare rispetto a quella di altri paesi coinvolti vede una serie di difficoltà specifiche per il contesto in cui si svolge ricordo anche che il decreto del 7 settembre del 38 che è quello che insieme alla scuola appunto costituisce le prime misure anti-ebraiche vede l'espulsione di tutti gli ebrei stranieri e quindi comincia quello che Renato chiamava una mobilitazione una migrazione forzata i percorsi quindi individuali mostrano la difficoltà di intraprendere questi queste scelte queste fughe questa fuga in questo momento e poi noi siamo di fronte a una fase che si apre dopo l'8 settembre del 43 in cui si avviarono le persecuzioni delle vite in cui tra 500 e 1000 individui riuscirono a passare la linea del fronte e raggiungere le regioni meridionali di circa 4200 circa 4200 furono quelli che riuscirono a passare in Svizzera e anche questa è quella migrazione studiata anche già accennata da Renato che è successiva il terzo punto il passaggio dai quadri generali agli itinerari individuali come spesso accade nella storia sulla Shoah uso un'accezione estesa io ad esempio cerco sempre di essere più come dire disarticolare però negli holopostadis ormai si usa l'accezione la Shoah per indicare il lungo periodo che vede le persecuzioni degli ebrei non solo quella che è definita che si svolge durante la guerra io appunto in questi studi utilizzo spesso ho utilizzato mi sono servita la categoria di microcosmo proprio per insistere sul contesto sociale in cui queste vicende si collocano e quindi quando noi passiamo da questo quadro generale ai percorsi di cui abbiamo già insistito sulla assoluta rilevanza vediamo come dire che i quadri si complicano mi limito qui quindi ormai prendo ancora pochi pochi minuti a evocare alcuni percorsi senza dare troppi dettagli a cui rinvio per i lavori scritti un solo esempio un solo esempio ne faccio un paio quindi non è uno quello cancellato Alessandro Levi è docente di filosofia del diritto di Parma una figura nota molto studiata noto socialista firmatario del manifesto croce prova a emigrare in Brasile ma non riesce e quindi praticamente lui per tutta una serie di ostacoli burocratici non riesce a portare a termine il progetto di emigrare in Brasile in particolare all'università di San Paolo che gli aveva offerto un posto alla facoltà di diritto quindi come dire prima notazione è ovvio che se noi prendiamo questo gruppo diciamo delle figure dei docenti dei professori dei docenti universitari per quanto i nostri adesso i studi più recenti su l'università includano sempre le figure quelle che oggi chiameremo del precariato intellettuale si tratta di esperienze molto diverse perché i professori di ruolo che avevano già rapporti precedenti si servono di questi rapporti molto diversi alla condizione di chi invece è in una fase diciamo iniziale di carriera quindi non va in Brasile viene internato al momento dell'entrata in guerra come considerato ebreo pericoloso nelle contingenze belliche questo è un passaggio che spesso nelle ricostruzioni viene diciamo non viene ricostruito viene saltato per tutta una serie di attraverso tutta una serie di diciamo di aiuti riesce a tornare a Firenze durante la guerra durante diciamo i mesi della guerra e decide di emigrare in Svizzera dopo che dopo l'8 settembre nell'autunno del 43 la sua casa viene la sua casa di Firenze lui si trova in campagna viene praticamente saccheggiata da degli ufficiali tedeschi e capisce che lo cercano con una lista e sono o meno una lista e riesce quindi a emigrare in Svizzera dopo l'autunno del 43 un altro caso che è più complesso durante l'esilio Vittorio Sereni che è un professore ordinario di diritto internazionale a Ferrara ebbene un poche difficoltà oltre a quelle comuni ad altri docenti che fecero la scelta di migrare che riguardava una possibilità di costruirsi un nuovo percorso professionale in un ambiente del tutto nuovo e si trovò ad affrontare alcune resistenze mosse da colleghi appunto statunitensi che lo considerarono per le sue posizioni troppo connevente con il regime fascista in particolare per i suoi scritti in occasione dell'aggressione e da questi ultimi scritti sereni prese le distanze gli fu appunto essenziale il sostegno di un collega che gli promise appunto ogni aiuto possibile per essere introdotto negli Stati Uniti il caso dei docenti universitari è stato studiato molto non lo si è detto ma risulta a mio avviso interessante perché si tratta di un gruppo professionale omogeneo come dire a volte quando noi parliamo o utilizziamo per quanto utile la nozione intellettuale questa rischia di essere un po' sfuggente e qui mi ricollego a quanto diceva Renato sulla necessità di definire questo esilio e definire anche gli attori dell'esilio perché se noi vogliamo costruire non solo delle biografie ma vedere delle tipologie abbiamo la necessità di andare non la definizione non impoverisce la nozione dell'esilio ce la complica anzi ce la arricchisce in questo senso per quanto e l'altro aspetto per cui io ritengo che ancora questo il caso dei docenti universitari meriti di essere studiato è perché per quanto in alcuni casi la documentazione sia davvero ampia e articolata io ad esempio su Parnell Ferrara ho trovato un archivio intatto forse tra i più ricchi di quelli con cui mi sono trovata a diciamo universitari incroci con i documenti dell'ACS testimonianze quindi come dire una ovviamente molti di queste figure sono figure sono appunto hanno un rilievo scientifico quindi sono stati oggetto di studi ma a volte ci sono dei percorsi che non si riescono ancora a ricostruire vi faccio anche qui un esempio di Guido Melli che è un docente straordinario di clinica medica medica generale a Parma tra l'altro che avrà una brillantissima carriera dopo la guerra in statale a Milano ad un certo punto si perdono le tracce dopo l'interruzione della sua attività non sono riuscita a trovare notizie precise se non che si mosse in varie città in Italia e trovò riparo in Italia meridionale e in città estere questo è quello che ho trovato ma neanche la voce del dizionario biografico tutte le ricerche che ho fatto non vanno a precisare che cosa fece soprattutto se dove andò all'estero quindi è quella conferma di questi mondi separati per cui nel racconto che è destinato a questo rientro in Italia non importa questa esperienza in alcuni casi altri percorsi furono di altro tipo ad esempio una delle figure più interessanti che ho ricostruito è quella di Aldo Luisada che definì la sua esperienza dell'esilio che poi fu un esilio permanente perché rimase negli Stati Uniti una vita da straniero in terra straniera era un giovane professore di patologia speciale medica Ferrara emigrò negli Stati Uniti a Boston e il suo percorso conferma tutta la difficoltà anche materiale della ricostruzione di una ricostruzione di un percorso professionale a partire dal fatto che dovette di nuovo pur essendo docente e anche un brillante docente e riconosciuto nella sua specializzazione conseguire di nuovo la laurea in medicina perché non gli venne riconosciuto il titolo dopo la guerra Luisada decise di non rientrare in Italia come fece un altro suo collega giovane docente a Ferrara Cesare Tedeschi che era incaricato del corso di anatomia istologica patologica poi c'è il problema del non solo del reintegro perché chi decise di di entrare ebbe appunto difficoltà anche lo stesso Levi ad avere come dire a ottenere il posto ottenere lo stipendio cioè ci sono delle difficoltà materiali che ora non non ripercorro c'è un aspetto che è interessante che ho trovato in molti appunto molti docenti che decidono di rientrare ma che provano a mantenere relazioni con istituti e centri di ricerca dopo la guerra nei casi che ho studiato ad esempio Marcello Finzia all'Università di Cordoba lo stesso lo stesso Vittorio Sereni e altri e altri casi c'è una praticamente una impossibilità materiale da parte dell'istituzione di riconoscere questa c'è proprio una una specie di accanimento anche nell'accelerare nello scegliere non dare i permessi per svolgere queste appunto una collaborazione che è stata una liberazione quando poi riusciamo a ricostruire appunto queste vicende e anche l'esperienza professionale all'estero con queste fonti a cui accennavo noi vediamo appunto se noi vogliamo utilizzare anche un'attualizzazione dei cervelli in fuga cioè c'è sempre l'idea che poi questa esperienza uno la riporta indietro con le relazioni con scambi scientifici invece tutto questo nel passaggio nel dopoguerra viene molto ostacolato ecco dalla burocrazia ma anche dal mondo accademico dal mondo accademico non prendo altro tempo e mi semplicemente ripercorro insomma insieme a voi quali sono secondo me i punti interessanti che la storiografia sull'esilio può portare no cioè ci può sollecitare sulla sulla questione dei docenti di questa specifica vicenda di questa immigrazione intellettuale la prima cosa è quella della scomposizione di questa di questa categoria esilio no che è condizione scelta passaggio quindi faccio mia come dire l'attenzione a non applicarla in modo generico e incondizionato perché non tutte queste esperienze furono possono essere definite come esilio perché l'eccessiva generalizzazione dell'esilio ci può portare a non comprendere quali sono le specificità di questi percorsi e l'altro richiamo che faccio è proprio sulle difficoltà delle fonti perché se il progetto di Tuglia o anche altre storie che ho ricostruito ad esempio questo microcosmo ho ricostruito due famiglie fiorentine i Cividalli e i Salmon molto legati sono due sorelle e decidono di fare due scelte diverse una famiglia sceglie di rimanere a Firenze e rimane e si nasconde una famiglia sceglie di immigrare in Palestina e lì attraverso delle fonti bellissime delle lettere dei diari sono riuscita a ricostruire gli stati d'animo il fatto che ad esempio la generazione dei genitori non riesce soprattutto la madre la nonna non riesce assolutamente adattarsi a vivere in questo posto appunto che poteva essere Tel Aviv in questa città 1939 così lontana dalla Firenze borghese a cui era abituata più difficile è per quanto se uno vuole diciamo stare Valeria scusa se puoi chiudere per costruire sto finendo proprio se vuole diciamo circoscrivere sull'ambito professionale diciamo le fonti dove i miei docenti che ho studiato hanno diciamo espresso questo tipo di esperienza anche dal lato privato sono più difficili da raccogliere grazie grazie Valeria e io giro subito la parola Antonella Salomoni grazie Renato grazie a tutti insomma è stato molto molto interessante e cercherò di essere molto rapida perché ho molte cose da dire quindi guardo il tempo va bene allora condizione scelta passaggio insomma queste ultime parole di Valeria insomma mi avete fatto riflettere molto tutti quanti su delle tematiche che governo in modo molto parziale rispetto alle vostre competenze e quindi farò delle riflessioni di carattere soprattutto generale allora la proposta di panel e l'intervento introduttivo che ha tenuto oggi Renato Camurri ci mostrano una molteplicità di problemi che sarebbe utile esaminare con acribia nell'ordine stabilito dal progetto e spero che comunque verranno affrontati nella discussione generale soprattutto per chiarire la questione degli effetti collaterali negativi derivanti dalla generalizzazione del concetto di esilio in parte inevitabile sono inevitabili in parte questi effetti collaterali quando si invoca peraltro un dialogo tra le varie tra le varie discipline le mie competenze qui lo dico molto molto rapidamente sono limitate alla storia della cultura russa anti bolshevica in esilio Praga Sofia Berlino Parigi dopo la costituzione dello stato sovietico e riportate in patria in seguito alla dissoluzione dell'URSS problema un macro problema e soprattutto su quest'ultimo aspetto che verte oggi il mio interesse naturalmente non ne parlerò e soltanto al termine dell'intervento farò alcuni cenni a un lavoro collegato dato che le relazioni presentate riguardano quasi esclusivamente argomenti di storia italiana quindi la mia presenza in parte mi verrebbe da dire abusiva in questo contesto vorrei per prima cosa introdurre un problema di carattere generale che coinvolge credo le conoscenze che abbiamo in comune e che riguarda anche la questione del binomio svolta turn evoluzione evocata da Renato in apertura le chiamerei delle notazioni di carattere filologico prenderò spunto dalla voce esilio che Enrico Besta professore di storia del diritto all'università di Milano e Silvio Longhi vi è sicuramente molto nota procuratore generale della Corte di Cassazione hanno scritto per il quattordicesimo volume dell'enciclopedia italiana 1932 vi esaminano sulla base della più importante letteratura internazionale del tempo e facendo succintamente ricorso ai principali studi coevi di diritto europeo comparato le trasformazioni delle nozioni giuridiche e i mutamenti degli istituti dell'esilio nelle consuetudini e nelle antiche leggi italiane e germaniche cito l'esilio è l'allontanamento ex del cittadino dal territorio della patria solum con carattere di stabilità ancorché temporanea eseguito mediante costrizione diretta o indiretta o e come pena limitativa della libertà personale fine citazione all'inizio della voce troviamo però questa avvertenza che potremmo definire classica cito di nuovo se compreso nel concetto di esilio l'abbandono volontario della patria conseguenza della necessità anche solo opinata di sottrarsi a persecuzioni o violenze politiche o civili l'esilio assume allora la denominazione di volontario e non è l'equivalente di una pena fine citazione da un lato il passo che ho citato ci mostra quanto siano antichi e anche soltanto limitandoci all'età contemporanea i tentativi di problematizzare e definire la nozione di esilio per giunta durante il fascismo a cavallo tra due sue diverse fasi dall'altro lato sembra dunque potersi sostenere che l'ascendenza del sintagma esilio volontario nel lessico politico e giuridico coincida con la decadenza delle legislazioni e degli istituti che decretavano l'esilio come pena sicché il ventaglio semantico di esilio almeno dopo gli attacchi di Cesare Beccaria e in ogni caso dopo la rivoluzione francese si riduce alla significazione di azione di sottrazione a una possibile persecuzione in realtà le cose appaiono un po' meno semplici quando si è avvenuto lo slittamento semantico a me interessa molto questo slittamento semantico della voce esilio quando si è avvenuto lo slittamento semantico è ampiamente documentato dal grande dizionario della lingua italiana cura di Salvatore Battaglia che ai tre lemmi esiliare esiliato esilio dedica uno spazio enorme di prelievi dal corpus della letteratura italiana e naturalmente va tenuto presente che questo corpus è ulteriormente aumentato per effetto della digitalizzazione in corso eccetera il trasferimento del significante esilio dal campo della coazione della legge al campo della libera scelta del soggetto avviene tra la fine del quindicesimo e l'inizio del sedicesimo secolo qualche accenno lo possiamo trovare anche nell'età comunale senza che tra i due campi venga a volte meno il legame etico politico faccio qualche rapidissima citazione meglio è stare in esilio e patire danno che stare nella patria appascere un tiranno questo è Francesco Cecco poeta della seconda metà del secolo quindicesimo e si potrebbero fare tantissimi altri esempi ora l'analisi dei tre lemmi del battaglia è a mio avviso per lo storico di grande utilità perché vi si trova intrecciata in un insieme che non verrà mai abbandonato nella letteratura successiva prosa e poesia la dialettica tra il mandare in esilio azione delle leggi di uno stato e andare in esilio libero gesto del soggetto sia perché vi si trova consegnata una serie imponente di loci comunes che costituiranno la langue dell'esilio vale a dire ciò che è sociale ed è registrato passivamente nel soggetto sulla quale però interviene la parola capace di creatività ciò che è individuale e produce rottura rimando naturalmente qui alla distinzione tra langue e parole in Ferdinand de Saussure Renato Camuri ha insistito nei suoi studi più recenti sull'importanza sono tanti di studi che Renato ha dedicato a questi temi e sono andata anche a leggerli o rileggerli ha insistito sull'importanza della dimensione transnazionale negli studi sull'esilio ricamata anche da Valeria nel suo paper e nel suo test introduttivo nella sua introduzione ha poi rinviato ad un approccio più legato alla circolazione delle idee agli intrecci alle contaminazioni tra esperienze che privilegia una dimensione definita translocale al fine di studiare la concentrazione lo sto citando di conoscenze prodotte dai diversi esili in spazi circoscritti destinati a divenire vere e proprie comunità di sapere ora non sono proprio sicura di averne compreso del tutto la portata e le implicazioni e anche è il problema dell'elevata concentrazione ma anche quello del microcosme evocato poco fa da Valeria e pertanto qui pongo una domanda a tutti solleciterei tutti i relatori a un approfondimento su questi punti nel dibattito dal punto di vista linguistico e filologico che qui pongo in modo quasi esclusivo senza per questo sminuire altri approcci credo infatti che sarebbe utile procedere in modo preliminare allo studio dei corpora equivalenti al battaglia che ha ciascun paese europeo e cercherò di mostrare in breve per quale ragione per quanto mi riguarda ho provato a interrogare il corpo nazionale della lingua russa ormai digitalizzato che dispone una sequenza impressionante del lemma isgnagne da considerarsi come equivalente di exilium e consente così di procedere a un primo confronto di significati concorpora di altri paesi e di pensare e qui vengo al punto per me dirimente che gli sforzi per dare forma di parola al sentimento dell'esilio facciano affiorare una sentimentalità europea forse questo modo di affrontare l'argomento è come ha scritto Renato invitando a delimitare il campo dell'analisi una banalizzazione o eccessiva generalizzazione dell'esperienza dell'esilio forse ma il fatto è che porre la questione in questi termini significherebbe entrare in un campo di studi la cui apertura Lucian Feb ha sollecitato fino al 1950 e che è ancora a mio avviso da sondare da scavare questo terreno l'esilio può essere rappresentato da un insieme di fatti che lo costituiscono come fenomeno visibile e quanto viene mostrato ad esempio dai dati raccolti da Chiara Renzo che nel suo intervento ha egregiamente richiamato l'azione delle più noti agenzie internazionali di soccorso di fronte all'emergenza profughi alla fine della seconda guerra mondiale e soprattutto i problemi della prolungata permanenza di profughi ebrei in Italia isolando il caso di coloro lo ha detto che per età o condizioni di salute non ebbero grandi possibilità di essere ammessi ai programmi di ricollocazione l'esilio come fenomeno visibile mi pare emergere anche dall'analisi di Valeria Galivi che attraverso casi esemplari tedeschi Finzi Luis Adama nella relazione orale ne ha riportati altri ci ha invece richiamato una esperienza multidimensionale non limitata agli aspetti prettamente politici della scelta che porta all'esilio ma anche rivolta alla riconsiderazione delle difficoltà di natura economica materiale psicologica al momento dell'integrazione nel paese di adozione o accoglienza sono due cose diverse e Valeria soprattutto ha posto l'attenzione su un tema per me molto rivelante che è quello del danno e della perdita subita ma c'è dell'altro quindi io faccio un po' da contro relatore se volete il macro testo dell'esilio che io conosco è per me soprattutto un testo letterale convoca come chiedeva Fevre il sentimento dell'esilio per rappresentare il quale ci vuole il lavoro della parola è come mi pare peraltro emergere da molte delle fonti coinvolte nelle relazioni proposte oggi e qui non posso fare a meno di richiamare di citare Jean Starovinsky che ha scritto la storia dei sentimenti pone una questione di metodo che nasce dal rapporto fra sentimenti e linguaggio i sentimenti di cui vogliamo ripercorrere la storia ci sono accessibili solo a partire dal momento in cui si manifestano verbalmente o con qualsiasi altro mezzo espressivo e alla fine di questa relazione richiamerò la diciamo quanto ci ha detto Giuliana Altea per il critico per lo storico un sentimento può essere studiato solo dopo che è apparso per iscritto scrive ancora Starovinsky nulla può essere colto del sentimento al di sotto del punto in cui è nominato dove esso si designa e si esprime non è quindi l'esperienza affettiva in sé che ci viene offerta ma solo la parte dell'esperienza affettiva che è passata in un enunciato solo questo può sollecitare lo storico fine citazione ora spostare la questione dal campo della storia dell'esilio come insieme di storie individuali e collettive come eventi materiali di emigrazione al fine di sottrarsi a persecuzioni o violenze politiche o civili spostarla alla questione del linguaggio dell'esilio non significa lo chiarisco limitare l'importanza degli studi che l'hanno ritagliata in parte dalla storia dell'immigrazione o che si sono imposti di ricostruire i processi per i quali l'esilio crea le sue istituzioni nelle patrie di approdo significa semplicemente esaminare i testi che hanno fatto la letteratura dell'esilio come letteratura nel senso che hanno messo in forma di parole il sentimento dell'esilio e hanno prodotto la storia del sentimento dell'esilio è il caso ad esempio dei testi o delle testimonianze di Alma Morkurgo Silvia Rosselli Giorgina Revi storie esemplari proposte da Tullia Catalan che come la testa Tullia ha scritto sono solo un frammento e questo lo sapete benissimo voi che lavorate su questi testi sono un frammento dalla miriade di diari lettere testimonianze da cui è possibile estrarre elementi cruciali del vissuto altrove per pochi mesi qualche anno in alcuni casi un'intera vita e ad esempio nell'analisi di Tullia sono serviti per tracciare una sorta di invarianza nella o della vita quotidiana i preparativi per la partenza il distacco dalla patria eccetera eccetera non c'è dubbio che gli storici mettendosi al lavoro sui sentimenti in qualche caso anche prima dell'invito di Lucian Febre sapevano anche se non ne sembravano propriamente consapevoli che quelli di cui volevano fare storia erano loro accessibili solo nel supporto materiale in cui si erano enunciati un testo e quindi non erano i sentimenti in sé per sé e erano pertanto consapevoli che i documenti pervenuti non contengono l'esperienza affettiva ma solo la traduzione linguistica di qualcosa che per definizione non ha statuto linguistico per darselo questo statuto linguistico passa attraverso una serie di mediazioni senza l'analisi delle quali potremmo dire resta sospeso queste mediazioni sono molto complesse soprattutto quando il soggetto che scrive in nome del suo saper fare parla a nome di un altro e nell'imprestito procede per analogia sono anche estremamente variabili a seconda della capacità del mittente di servirsi del mezzo di comunicazione scelto tutti questi testi sono diseguali fra di loro e a seconda della capacità anche di decodificazione del destinatario sono infine molto instabili quando il tempo della ricostruzione e narrazione di un sentimento provato si allontana nel tempo dagli eventi ora vorrei raggiungere ad un'ultima considerazione riguardo alla quale mi richiamo brevemente un'esperienza personale di lavoro l'esperienza dell'esilio volontario riguarda una parte molto importante dell'intellettualità russa del XIX secolo è quasi esclusivamente politica si tratta di un esilio talmente noto e studiato che lo evoco solo per far avanzare il discorso fino al punto in cui mi interessa arrivare una situazione simile la ritroviamo con l'esilio politico russo sovietico del primo decennio di costituzione dello Stato sovietico ma ciò che unisce due secoli e ne fa a mio avviso un'esperienza unica nella storia europea è una figura che in italiano possiamo richiamare con il verbo riflessivo esiliarsi nel senso di sentirsi o trovarsi in esilio vivendo in patria e quindi anche qui parlare di esilio in patria significa forse fare un uso metaforico e simbolico della parola esilio quindi lo pongo alla discussione mi interessa molto discutere di questo con voi ora l'esiliarsi della poesia russa del XIX secolo ha significato fare politica con la poesia in un paese in cui la censura zarista era onnipotente e i diritti erano sistematicamente negati ha significato fare circolare poesia di idee poesia dei problemi del mondo poesia del dolore universale poesia dell'afflizione nazionale poesia del dolore civile sono tutti imprestiti sono tutte citazioni e la poesia russa in età sovietica si è esiliata e si è conservata nella mente soprattutto potrei dire quando era interdetta la trasmissione con la scrittura dall'esiliarsi ad esempio è nato il cosiddetto Samisdat edizioni in proprio ora ciò mi porta a richiamare in conclusione il problema dell'esilio come condizione favorevole alla creatività come scrive Giuliano Altea nel suo contributo rispetto al quale avverto una grande consonanza potremmo anche definirla come quella condizione privilegiata tra virgolette è una citazione un imprestito dell'esilio come una sorta di filtro ermeneutico per la comprensione che emerge esplicitamente ad esempio dal carteggio di Leo Strauss e Karl Leavitt ma anche dai carteggi di molti altri intellettuali ebrei come Gershon Scholl e Leo Strauss che insistono sulla condizione dell'uomo moderno che vive nell'epoca è una citazione del non più e del non ancora oppure dalla corrispondenza tra Ann Arendt e Herman Brock e moltissimi altri carteggi corrispondenze che per me sono una fonte davvero straordinaria attraverso la figura esemplare di Costantino Nivola Giuliano Altea affronta il caso di una rinascita in quanto la sto citando risposta all'esigenza di elaborare un nuovo linguaggio con cui affrontare circostanze estrane ed esperienze non familiari e d'altra parte cos'è la tecnica del suncasting di Nivola se non un esempio marcante di questo nuovo linguaggio Altea e qui concludo richiamo un saggio del filosofo cieco naturalizzato brasiliano Willem Flausser su esilio e creatività un saggio del 1984 non lo conoscevo e sono andata a recuperarlo perché mi aveva molto colpito la sua idea dell'esilio come un oceano di informazioni caotiche e vorrei citarne un frammento che dà conto di quella tensione che è al centro del contributo di Altea in quanto la cito ricerca di un equilibrio tra stabilità e impermanenza lo diceva anche nella sua esposizione e dunque cita in conclusione da questo saggio di Flausser nell'esilio tutto è insolito l'esilio è un oceano di informazioni caotiche in esso l'assenza di ridondanza non consente di ricevere il flusso di informazioni come messaggi che abbiano significato poiché è insolito l'esilio è invivibile oppure insopportabile bisogna trasformare l'informazione che è sibila intorno in messaggi eloquenti per renderla vivibile occorre elaborare i dati è una questione di sopravvivenza se non si trasformano i dati si è travolti dalle onde dell'esilio la trasformazione dei dati è sinonimo di creazione ciò che è espulso deve essere creativo se non si vuole soccondere e vi ringrazio dell'attenzione grazie molte Antonella è veramente stimolante io adesso chiedo ai nostri controllori organizzatori cosa dobbiamo fare se veniamo appunto espulsi esiliati nelle nostre causa mancanza di tempo o se abbiamo qualche qualche minuto allora io vi direi siamo già mi dicono di dirvi in realtà siamo già un po' oltre però forse si possono andare altri cinque minuti fino a luna perché c'è stato qualche problema tecnico poi però bisogna anche preparare l'altra stanza sì sì no non vogliamo creare problemi figuriamoci allora io a questo punto sentirei sentirei se ci sono da chi gentilmente ci ha seguito delle domande dei commenti quindi darei la parola invitando a tenere presente vedo una mano alzata Katrin Briss purtroppo del poco tempo a disposizione darei subito la parola Katrin che si è prenotata molto rapidamente grazie era molto molto interessante allora io faccio le domande dirette senza senza essere poli come si dice io avrei una domanda per questi esuli degli anni diciamo del fascismo e volevo sapere nella parte diciamo aspetto economico dell'esilio politico se ci sono ricerche e non solo per gli ebrei sullo stato patrimoniale e la circolazione o non patrimoniali dei loro beni che è un elemento che entra anche diciamo nella valutazione della loro agency quando sono fuori ma soprattutto quando qualche volta tornano ecco dunque diciamo come vivono all'estero e questo si vede che viene affrontato però che cosa succede con i loro patrimoni sequestrati qualche volta ma non per forza e dunque quello fa parte diciamo della domanda generale sulla capacità di vivere economicamente e dunque anche socialmente io avrei avuto tante altre ricche domande ma le farò direttamente grazie grazie Katrin penso che la destinataria sia Valeria mi sembra no? sì vado anch'io rapidissima così da lasciare innanzitutto però volevo dire ringrazio molto Antonella Salomoni perché credo ci abbia dato degli spunti interessanti su questa definizione no? noi dicevamo il rischio di questa eccessiva banalizzazione ma quello che lei ci suggerisce è di introdurre quello ma anche sulla scorta pensiamo all'Exilforschung tedesca io ho studiato ho delle fonti diciamo più aride per questo caso però ho studiato molto gli esodi appunto tedeschi e dalla Germania dell'Europa orientale in Francia per cui i testi letterari quella diciamo quella messa in parola io sono molto familiare ecco con altri contesti dove quella messa in parola è molto suggestiva e quindi penso che sia un dato da inserire è quello dell'autorappresentazione cioè chi per semplificare questo discorso molto colto e articolato che ci hai fatto proprio dell'autorappresentazione chi si sente e quindi l'idea di inserire provare a inserire la categoria dei sentimenti la storia delle emozioni si potrebbe dire quella di capire chi si sente esiliato credo che sia anche una prima notazione metodologica a mio avviso che ho colto con grande con grande interesse per rispondere ma qui la cosa va molto articolata dai casi individuali noi troviamo tantissime esperienze diverse allora quello che è evidente per Patrizia potrebbe che ha studiato di Patrizia Guarnieri che è qui che ha studiato come dire un database molto più ricco per quanto altri hanno fatto degli studi più analitici possono rappresentare dei casi diversi io ho avuto a che fare con diciamo docenti figure di diciamo professionali soprattutto professori di ruolo che sono riusciti ad andare al destero a inserirsi con grazie soprattutto a relazioni preesistenti diciamo professionali e con una disponibilità economica no di certamente consistente quello che non si riesce a ricostruire sempre ad esempio sono i casi dei più giovani di queste figure del precariato che ne ho trovate alcune che erano avevano avviato delle carriere brillantissime a proposito del danno che poi vanno all'estero ma poi vanno a fare altro cioè non riescono a continuare e quella è una degli aspetti di questa storia che è difficile da raccontare perché noi abbiamo tutta una serie di persone di studiosi giovani studiosi che non sono riusciti poi a portare avanti delle carriere e quello è un danno che andrebbe misurato in qualche modo ma è molto difficile e l'altra cosa che io ho ricostruito è l'enorme difficoltà del riconoscimento dei propri diritti di tipo economico perché moltissimi richiedono ad esempio c'è un riconoscimento di pensioni retroattive di passaggi di ruoli trattivi e una difficoltà enorme nel reintegro soprattutto a riavere questi diritti di tipo economico e questo è un aspetto che va approfondito perché è uno ed è anche quello che noi troviamo diciamo anche esplicitato in questa autorappresentazione dell'esilio dove la parte di questi che ho studiato la parte economica delle difficoltà economiche uno di questi riesce ad andare in Egitto dalla famiglia durante la guerra e cerca di aiutare ha delle enormi difficoltà riesce ad essere reintegrato all'università perché diciamo ora non entro nel dettaglio riesce a essere considerato non soggetto di queste divisure persecutorie ma ha dei problemi economici e non riesce a ritornare in Italia per dire su tutte questioni che appunto attraverso i percorsi individuali ci mostrano un'esperienza molto articolata da questo punto di vista chiudo osso chiedere se c'è qualche altra domanda commento finché non ci tolgono la parola altrimenti sì ci sarebbero tantissime cose da qui ragionare grazie all'intervento che ci ha proposto Antonella ma io non vorrei insomma appunto banalizzare in pochi minuti quindi il problema della definizione è un problema enorme non c'è grande lavoro diciamo sulla storia dell'esilio che non parta dall'inito che non dedichi i primi capitoli alla discussione lessicale e non è non è un caso questo insomma evidentemente però credo che lo sia un passaggio obbligatorio ecco comunità di saperi Antonella io penso che guardando al contesto americano nordamericano e sudamericano siano facilmente individuabili insomma alcune di questi spazi che presentano queste caratteristiche città del Messico ad esempio è una straordinaria straordinaria laboratoria negli anni 30 dopo la fine della guerra civile spagnola e negli anni successivi e Buenos Aires lo stesso negli Stati Uniti vabbè insomma è banale dirlo non solo l'East Coast e la West Coast insomma ci sono questi questi luoghi magici speciali in cui si determinano le condizioni per una straordinaria circolazione ma anche in Europa in alcuni casi insomma l'Inghilterra non dimentichiamolo insomma è certamente uno spazio fondamentale di questa vicenda ecco quindi ci sono dei lavori che stanno cercando di effettivamente penso alcuni lavori soprattutto nell'area della West Coast in California che hanno stanno indagando questi intrecci e queste le dimensioni caratteristiche di queste comunità mi sembra una pista interessante insomma chiudo con il tuo invito che accolgo e che cioè quello della lingua della parola centralità della parola esperienza dell'esilio secondo me è un tema fondamentale cioè quindi la grande letteratura ma anche la la produzione diretta l'autoproduzione e quindi i carteggi privati sono per chi si occupa di lavoro in questo settore sono fondamentali insomma cioè il punto nodale è l'intreccio mostruoso di tutte queste competenze da un lato fonti dall'altro e approcci metodologici che questo campo di ricerca richiede secondo me però io credo sia l'unica arma veramente che abbiamo l'unico percorso che abbiamo a disposizione insomma ecco sono due tre riflessioni proprio così buttate lì allora io ringrazio tutti ringrazio i nostri vigilantes che ci hanno accompagnato in questa bella discussione e beh insomma penso che inutile per molti di noi una rivederci perché insomma abbiamo molte cose in comune che ci aspettano e quindi grazie a tutti ancora grazie a tutti grazie a tutti quanti ciao arrivederci a presto grazie Antonella grazie a voi ciao e grazie Renato per arrivederci eventualmente per chi rimarrà alla prossima sessione